Musica Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui su Borderlands Siamo sempre in compagnia di Nevermind, eccolo lì che lo sta facendo Ciao ciao Siamo al Claptrap E qua cominciano già i primi dilemmi C'è un fucile a pompa, ce n'è uno, chi lo prende? Lo prende? Dai prendilo te, io c'è un cecchino spigoloso Dice danno 15 per 13, cosa vorrei? Si, i 13 sono i pallettoni che spara Scolta Claptrap, stai tranquillo, toh, parla Allora, con una cadena che è morta ha recuperato l'occhio, ora devi solo trovare qualcuno che glielo rimonti Ah, completato, no, invio, prendi ricompensa Eccelta Grazie Ok, raggiungi la Yardsberg Si vede adesso? So cosa sia Ma come fa a scrivere senza... Comunque ricordiamolo anche qua, la prima parte la trovate sul mio canale eh E comunque abbiamo intenzione di creare una specie di video link che vi linka la puntata e lo pubblichiamo... Se pubblico la puntata per The Nevermind lo pubblico io così magari i miei scritti vanno sul suo e viceversa Esatto Facciamo vedere due punti di vista diversi Comunque, quanti FPS fai per questo? Allora io ne faccio, io registro 25, ho 30 e ne faccio 75 qua Ok Beh diciamo il cover del lancio Ah, ma perchè stiamo qua a parlare con sto qua? Bastava premere su spostamento e partivamo Ma vaffanculo Cos'è sta pistola super sexy? Io ho un fucile aggressivo con la baionette attaccata Capitan Findus Statistiche bonus Cos'è sta roba? Ah ok Aspetta ma io sono salito di livello, tipo non posso... Eccolo qua, possiamo salire o no? Come funziona? Astuzia, massacro Inarrivato all'Aiersberg Io non capisco Non funziona? Aspetta stavo sentendo diceva quello, comunque se premi tab vengono... Ah ma no, ma punti di abilità ne ho 0, sono solito di livello ma non ho nessun punto di abilità Ho un gettone, io non so che cacchio usare Bah, è un gettone, non ce ne fai niente, dai andiamo Bah Oh Oh Jesus Christ Superstar Qua cominciano a calare gli FPS guardando un po' giù C'è la città Che dobbiamo fare? Ah, dobbiamo difendere il robottino Si ma dov'è andato? Eccolo, scendi 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 Ah, attento Che attento Con un badass Oh One shot C'è, ma sto in un colpo questo Ah Filo di p***a Dov'è andato il tuo piccolo? Bravo Ah, sto cadendo Eccolo il captain Oh Chi è Flint Capitan Findus Beh, a parte il fatto che le armi, c'è tipo la grafica sembra un cartone, però cazzo c'è a me le armi danno un senso di serietà, non poco bassa Cioè, sembrano proprio serie le armi, ecco, non di cartone Mi ha fatto bene Ah, passiamo da sotto noi Si, probabile, perché Secondo me da qua esce qualcuno Può essere Oh Cosa succede? Dobbiamo salire, qua non c'è niente No, aspetta, chi è qua? Ah no, nessuno, vai Ho una proposta per te, il cacciatore della cripta Tu ti arrendi e noi ti spariamo in testa Sarà rapido Un predatore Mamma, guarda Ma che vogliono questi che ci contattano per ucciderci Ma te sei uno sputo di skeg One shot, one kill Una pistola verde Prendilo Ah cazzo c'è uno grosso Arrivano Dove, dove, dove Dietro qua Ecco il cane Che figo, sparai anche così Ho fatto uno scope devastante Gli ho tirato in faccia Questo è morto? Si sembra che stava in piedi Ma sto qua infatti si Ma che cazzo fa? Si muoveva un po' Visto che il mio tirapiedi ti ha salvato Vuoi fare un favore al tuo amico Claptrap e ripararmi l'occhio? Eh adesso, è mezz'ora che te lo stiamo dicendo Infatti Vieni da me e riparerò la vista di Claptrap Ma prima spengo la recensione elettrica Eh, eh, eccola qua Ah, gliela ripara lui Si, da armerlo È questa Oh, quanto cava il tuo cecchino? Il mio toglie 44 Il mio 48 Precisione 92 Cadenza fuoco 08 Velocità 5 E 6 di caricatore E uno un po' più Il mio è un po' più potente Vabbè Il mio è più bello va caricato Eccolo, eccolo Gamba di legno Qui è il braggio Cacciatore studioso e gentiluomo Occhiale rotto I bulli? Da notare il Claptrap Che è andato contro la recensione elettrica Eh, oh, anch'io Sì, vabbè, ma non l'ho toccata, cazzo Se trovi qualcosa di rosso A parte che mi ricordo dal gioco che Quando sei in carenza di vita Ah, da qua, negozi Quando sei in carenza di vita nascono Tipo spawnano di più le cure Sempre fidati No, qua sono tutte cazzate Ah, no, aspetta Ah, no, zaino No, cazzate Sono pistolette Schifose Oggetto del giorno L'Eater Iron Ehm, ok Vediamo qua se c'è qualcos'altro C'è una scala Una scaletta Soldi Io parlo con questo Ok Ti ho dato l'occhio Vabbè, ce l'avevo io Io sono sul tetto Frantuma Vabbè, teschi Come fanno a lasciare i teschi sul tetto Gli sta sparando No, tipo Lasciami connessere l'occhio Gliel'hai infilato dentro a forza Sono vivo Sono vivo Ma va, ti sei ricaricato le batterie A schiantarsi All'oglio addosso Amo E tu hai un aspetto molto peggiore Di quanto ricordassi Ma sta guardando me Ma perché? Cosa cazzo vuoi da me? Ehm, tu sei uno di quelli Guarda che sono qui Bello Guarda che non ci vede ancora Sì, infatti L'energia È piena di cose Che potrebbero essere utili Ma perché guardi me? Guarda altra gente Per piacere Ma cazzo Vido che Jack Il nostro impavido capo Ti sta cercando Un tipo affascinante Vero? Parla tanto di portare la pace Sul pianeta Oh, guarda uno in fondo C'è gente Quindi ce n'è uno in fondo Un di quelli grossi Ma l'ho preso ma non arriva fin là Mi sa Cioè, dobbiamo seguire lui Che sta riattivando La corrente in questa città C'è una pistola C'è una pistola Livello 3 richiesto Questa merda Io sono livello 3 Eccolo Ma li hai a tirare? Questi sono Un bulghigi Ah, attento lanciatori Lanciatori Oh, spara di Cristo Critico in faccia Un, ci arrivo sto cucile Allora Consegniamo la missione Ehm Wuhuu Mi sta s... Vaca ho poca vita Poca vita Oh, sta scappa Oh, mi sta tirando la roba Scappala di Ma guarda che cazzo hai ha tirato Un'orda Infinita di nemici Eccolo Vaca di che figata sta pistola Tipo spara Hai visto mercenari 2 il film? No Vabbè Allora non te lo dico Tipo Tipo Spara come quello lì Come... Come... Si esatto Pam 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 O come anche l'1 dai Allora ho accettato la missione Bravo Ehm Adesso sai do parlare col claptrap Si Alla sua nave Ascolta andiamo via da qua dai Andiamo è l'obiettivo Ti prometteva di non torturar numerone e poi lo torturava lo stesso Oh Ah che ce ne sono ancora nel fondo No vedi che dice dobbiamo scortare il claptrap alla nara Ecco cosa succederà cacciatore Qua c'è una pistola con il mirino Il mio primo ufficiale boom boom vi ucciderà Il mio primo ufficiale boom boom Ma chi cazzo è Nella vostra cavità toracica Ma che brutto che è flitto l'hai visto Che Dobbiamo stare il claptrap E' una tomba qua Una tomba sola Vedrà che faccia qualcosa Andiamo Vabbè niente Ma dove va il claptrap Oh c'è boom boom mi sa eh Andiamo andiamo Pare che non so da quanto è che sto registrando Vabbè arriviamo alla nave Terminiamo Si chiamano così perché Ok ho aperto il cancello vieni Che figo però guarda Eccola la nave Che schifo Ma non è una nave Si vabbè è una bagnarola cos'è Chi sono sti qua? Predatori Facciamo un 360 Ma la nave è lontanissima Vieni qua 360 Oh Oh no no questo questo E' malato Voi ho fatto esplodere il cervello No Mi ha preso Che cazzo mi ha preso? Uccidi uccidi Lo devi uccidere Uccidene uno Eh ma devo fare con uno scope Boom boom No non è No cazzo fitti i colpi Ah ok Hai ucciso? Si perché dovevo fare uno scope Non puoi mirare quando sei morto Ah no? Comunque c'è Vabbè ho preso qualcosa da terra Che cazzo ancora Tutto bene Fermo lasciamo uccidere uno No Eh dammi la mano allora E la loro città di frontiera più vicina è stata distrutta da una tempesta Uccidio ho preso in faccia da qua Merda Allontanatevi dalle finestre Che è? Allontanatevi dalle finestre? Oh bombe Che cazzo è una bomba che è arrivata no? Eh infatti è arrivata una granata Puttanaio Stai zitto asino Ecco che c'è la vita qua Cosa? Che cazzo Che schifo di persona apri apri cosa c'è qua? Ho aperto tipo il credore dei gelati Mi sto scervellando per chiamare un nome per il pony di diamanti che ho preso E poi chiamarlo testa di merda Per il... Ma mi sembra così Ma perchè testa di merda? Stallone da culo Stallone da culo Sai cosa ti dico? Credo che ci penserò un po' Ma che che malattie ci sono in questo gioco Il gente è malato Eccolo lì BOOM Headshot Ah che cazzo è Questo gioco mi sembra stupendo Ah No 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 ma... Spare i badili compa Hai badili? Non è possibile che morisci Ah che c'ho poca vita di mio adesso Non posso farci niente Ma come soprattutto una Svizz ha la priorità di questi? Non so Ah Spedatore Pam Ma ca di che è rato di... Oh 8 di vita cazzo Sto morendo Adesso lo uccido, lo uccido di potenza Ok Buona Abituati ad aprire un po' di roba perchè comunque c'è sempre qualche... Ah Che cazzo... Che cazzo dov'è dov'è? Dov'è? Eccola Ah sto morendo Ah Ecco cazzo sono in mezzo alla gente Aspetta Eh devi... Aspetta... Adesso lo frantumo Frantumato Però ce l'ho già dietro anche l'altro Ma che cazzo di pistole ho messo? Eh ma che cazzo c'è troppa gente Devi darmi una mano a sfondare questo Eh ho messo una pistola in uno Ok fatto Aaaaaaah Nove di vita Eh sono sempre per terra cazzo Se non mi riprendo la vita Aspetta che lo uccido No Devi darmi una mano non ce la faccio ucciderlo O forse si Dai dai che te lo sto andando Eh sto morendo Oh che culo C'è sta finendo la barra Che cazzo sono sempre per terra Anche perchè mi cura ma mi da 8 di vita Neanche... C'è 28 adesso C'era una cassa qua Oh stanno salendo dalle scale Stallone da culo Guarda che sta pistola spara dei razzi Dov'è il cavallo? Dov'è il cavallo? Si infatti stallone da culo dov'è? Ok Che cazzo mi serve la vita Allora guarda la scelta della vita Si vai la sotto E' qua? Oh qua 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 E' la sotto ci diamo a piedi dopo Eh ma qua c'è la discesse C'è un studio un livello Ding Livello 4 Eccolo Ah Questo è boom boom Chi è suo Tuo fratello Che succede qua? Eh cazzo Sono arrivando Oh 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 E' qualcuno Ma chi cazzo è che spara così? C'è boom boom C'è boom 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 Ah Che è sta pistola Armi incendia Oh ma porca sti Sti cosi che esplodono I psycho Malefici Bastardi Ma che cazzo faccio? Curami Curami Non ce la f... Non riesco a vivere qua Aspetta che c'è uno psycho che mi corre appresso Eh non ce la... non so se la fai peta Ce la fai ad ucciderlo quello? No è troppo distante cazzo Ok l'ho preso l'ho preso Ah no c'avevo uno anche vicino Aiaia Adesso? Ma che cazzo? Allora dov'è quello lì? Sono psycho Eh vabbè ma come fa a prendermi da qua? C'è gli animali Oh gli ho tirato un paio di... 4 o 5 di shot prima quindi... Eh vabbè c'è un altro qua ma basta Te l'affanculo psycho di merda Spostati spostati Dai uccidilo Sono 7 di vita è impossibile andare avanti Devi recuperare un po' lo scudo Ah ok Anche arrivato psycho qua Un altro Eh stiamo salendo di un altro livello Allora adesso carica il cecchino e raffio Adesso di spostarti in un altro posto però vai da un'altra parte Non sto facendo critico su Big Berta Non so chi cacchio sia però lo sto uccidendo Tu prendi questi qua Ah si petta Ah oddio Bravo 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 Allora fermo lì un attimo Dov'è il Big Berta? Sacco di merda adesso Eccolo la BAM Non ci prendo da qua Eh qua sotto non ci vuole Chi cazzo c'è uno psycho? Ti fa prendere Ah ah Aiuto Ah poi io colpo a corpo sono devastante in teoria Si Ok Dov'è Big Berta? BAM Eccoli 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 Ok ho ucciso Big Berta non so che cacchio sia però luce Occhio duop psycho che tira un appesso Che brutti Mamma mia ok asfaltati andiamo dove alfonso signorini chi è che spara così aggressivo ci tirano le granate sti bastardio ecco la porca puttanaio sono salito di nuovo e ci salgo adesso eccomi no quasi allora io provo a prendere boom boom se riesco dov'è boom boom eccolo la preso 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 che cazzo non lo vedo da qua è la giù con una ruta arancione giallo ragazzo ecco la sua vedo in seguimento verso di te corri ho preso l'ho preso l'ho preso ha fatto un quickscope ti manco tutto sto casino non c'è il tempo di vedere in moto granate ma basta andate via non riesco a prendere sti sfigati sguzzo ecco che ti sguzzo sguzzo vivo ma basta quanti ne devono arrivare e lasciano boiate lasciate allora fammi vedere lobbed granata ma ascolta ma quei bastardi lì non c'avevano niente di speciale no no modo granata no ah si per le sensazioni soli di qua bottini schifosi anche qua c'è un frigorifero ah che merda un water che cazzo è uscito uno stronzo c'è una pistola ma non la voglio io ce n'è un'altra non la voglio ascolta secondo me possiamo terminare qui si infatti quindi ragazzi lasciate un mi piace commentate e noi continueremo volentieri questa sera il prossimo episodio sarà sul canale di nevermind un saluto da krieg ciao a tutti e al prossimo episodio di borderland ciao 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 ciao